salve amici e bentornati sul canale charlie oggi andiamo a vedere un sistema alternativo per fissare al muro il dispositivo intercom della ring di questo dispositivo ho già fatto una recensione completa che vi lascio alla fine di questo video quindi mi raccomando andatelo a vedere perché grazie a questo dispositivo è possibile rendere smart il nostro vecchio citofono per fissare al muro questo dispositivo nella confezione troviamo o gli stop quindi dobbiamo fare il buco al muro o queste bande adesive che però potrebbero rovinare l'intonaco per il sistema alternativo abbiamo bisogno di una piastra acquistata in ferramenta a prezzo 1,50 euro circa lunga 14 centimetri alta 6 spessa 2 millimetri naturalmente le dimensioni possono anche variare e nel mio caso siccome sono un malato e non voglio rovinare il muro anche il nastro di carta vediamo come si procede allora innanzitutto per maggiore protezione andiamo ad incartare la piastra con il nastro di carta io il citofono già lo smontato vado ad allentare questa vite e la vado proprio a togliere il mio intento è mettere la piastra dietro in questo modo e poi andarla a stringere e qui attaccare il dispositivo qui adesso dobbiamo andare a scoprire un buco per dire questo quindi mettiamo la piastra dietro e dobbiamo far combaciare piastra buco e stop del citofano dopo di che possiamo andare a riavvitare mettiamo il citofono dritto e anche la piastra dritta perfetto e il mio intento adesso è andare ad attaccare il dispositivo in questo modo sulla piastra invece che sul muro utilizzando naturalmente la banda adesiva che il dispositivo ha qui dietro vediamo quanto è lunga la piastra che rimane più o meno sette centimetri e mezzo quindi io devo andare a togliere sette centimetri e mezzo di barra adesiva più o meno diciamo tutta allora la vado a togliere più o meno così ok vado a collegare il dispositivo facciamo così togliere il coperchio ok rimettiamo il coperchio e adesso lo andiamo ad attaccare questa poi sicuramente me lo riporterò un po dentro più o meno così premiamo devo dire che risulta stabile posso sfilarlo adesso vediamo se riesco a tirarmi dentro un po di cavo un po del cablaggio che non mi serve ok rimontiamo il citofono e questa è l'installazione finale bene amici eccoci giunti alle conclusioni come abbiamo visto l'installazione è velocissima non abbiamo rovinato il muro con i buchi non abbiamo rovinato l'intonaco con la banda adesiva il dispositivo rimane stabile si può sfiliare il coperchio rinfilare spesa sostenuta 1,50 euro circa quindi se siete malati come me e non volete rovinare il muro sicuramente questa rimane una valida alternativa amici il video termina qui come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti a presto al prossimo video Flavio 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 Flavio